Dallo stand di Huawei vi presentiamo il nuovo Huawei Ascent Mate, un phablet sempre, da 6.1 risoluzione 1280x720, processore e piattaforma hardware quad core da un giga e mezzo proprietaria, infatti Huawei ha inglobato delle società per farsi da sé i processori e le schede grafiche dei propri telefonini, è disponibile in due modelli, pensiamo a secondo del paese di lanci, di vendita, 1 gigabyte o 2 gigabyte di RAM, 8 gigabyte di ROM e la possibilità di espansione con microSD, 8 megapixel per la fotocamera, Bluetooth 4.0 e Android 4.1 Jelly Bean, la batteria è importante, 4000 mAh di capacità, così come sono importanti le dimensioni del dispositivo. Tuttavia Huawei riuscite a coniugare un dispositivo dalle grandi dimensioni con uno spessore abbastanza contenuto. Quello che non ci piace potrebbe essere ad esempio qualche dettaglio, come questo gradino a fine bordo, non si vede dal video ma al tatto è parecchio evidente, oppure il retro che è molto prono ad accogliere le ditate, quindi portatevi sempre un panno dietro, diciamo. Allora il telefono è molto veloce, facciamo ad esempio un attimo una prova con la fotocamera, vedete si avvia in maniera istantanea, lo scatto anche avviene in maniera altrettanto istantanea. Ora usciamo, chiudiamo tutto, proviamo a riavviarlo, in un attimo si avvia, in un attimo si avvia qualunque cosa, questo è merito come abbiamo detto del processore quad core da un giga e mezzo. Dai spazio, Euronics Italia è tutto!